A Gordinar Siamo a Taibona Gordino, in provincia di Belluno. Professionalità, competenza, precisione e serietà contraddistinguono il titolare dell'Armeria Gordinarmi Andrea Mottes. Oltre ad un fornitissimo negozio, in cui si può trovare tutto ciò che serve al cacciatore specializzato nella caccia con arma rigata, vantando la presenza delle migliore marche di componenti ed ottiche, a Gordinarmi dispone di un'attrezzata officina dove, oltre alle riparazioni, alla manutenzione delle parti d'arma, allo studio di ricariche personalizzate ed altri lavori di finitura, vengono effettuati montaggi ottiche ed allestimenti di torrette balistiche personalizzate o standard su ottiche delle varie case costruttrici. La curatizzazione delle armi ha oggi un'importanza determinante per il prelievo che unisce al contesto venatorio la garanzia di precisione, affidabilità ed etica in un tiro il più possibile utile al prelievo istantaneo. Una grande novità è data dal nuovo sistema realizzato da Gordinarmi che permette, grazie ad uno speciale manicotto, di installare una canna di calibro, lunghezza, marca e qualità a richiesta del cliente su carabine Blaser. canna che verrà poi mandata al banco di prova per gli opportuni adempimenti di legge e consegnata finita in ogni sua parte. Tutte queste preparazioni sono coronate dal sistema di compensazione overrange che a Gordinarmi installa il cliente più esigente. Si tratta di un sistema di compensazione meccanico che agisce sull'attacco dell'ottica, estremamente sicuro e preciso garantisce anche nel tiro un po' più lungo la rispondenza di impatto rispetto al punto mirato. Determinante è la passione che Andrea mette nel proprio lavoro a beneficio del prodotto che verrà utilizzato dal cacciatore. Passione che lo spinge a trovare in sinergia con il cliente la soluzione ottimale che soddisfi tutte le esigenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per ultimare le preparazioni delle carabine a Gordinarmi dispone di un poligono di proprietà unito di telecamere in cui il titolare testa le sue preparazioni dando così al cacciatore un prodotto collaudato e pronto per l'attività venatoria. Vengono testate le rosate delle cariche ottimizzate per ogni singola arma. Vengono apportati relativi aggiustaggi in funzione della taratura voluta e dell'eventuale sistema di compensazione installato. In poligono verranno verificate non solo la taratura ma anche tutti i rilievi della velocità valore determinante per l'utilizzo di tutti i sistemi di compensazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti A Guardina Armi, passione e competenza al servizio del cacciatore Grazie a tutti